Nera Nolito, anche Bojan fa un arretrato, Affellai entra in area, Affellai sul destra, Affellai! 3-0 Occhio, oggi vediamo un'altra manita Vittare, ha cubrato un gran pallone, ha messo per Affellai Ha trovato l'angolino Bravo Rappido Valla golazo del Barca, Affellai, mi sembra che ha fatto il che ha fatto con la derecha, ha salito a la izquierda, Affellai Affellai, che ha fatto un recorte monumental e un disparo molto, molto legato al palo izquierdo Con una buona giurata, un disparo debajo, lejos del portero, che io l'ho visto Que velocità, in questo caso ha fatto il final E poi è un'attività che era un giocatore, fare un partito, marcar questo gioco E' un significativo per un giocatore molto joven E' un'attività che non mi piace Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!